ben trovato una nuova edizione di senior news vediamo i titoli da segno d'italia applauso ad aifa su prescrizioni farmaci diabete da parte dei medici di medicina generale tra gli effetti collaterali del covid ci sono anche l'ansia e i disturbi del sonno malattie respiratorie le terapie a disposizione per la bromopneumopatia cronico struttiva ipercolesterolemia in un sito web tutto l'abc sul colesterolo finalmente alcuni importanti farmaci per il trattamento della diabete mellito di tipo 2 potranno essere prescritti direttamente dai medici di medicina generale oltre che da tutti gli specialisti del servizio sanitario nazionale e quanto ha dichiarato roberto messina presidente di senior italia federanziani in merito alla decisione dell'aifa sulla prescrizione di questi farmaci è una notizia importante che faciliterà la vita di molti pazienti un passaggio atteso per il quale da tempo la nostra organizzazione si è spesa sollecitando in ogni modo questo cambiamento ha continuato messina quindi è col massimo applauso che apprendiamo la notizia della nota 100 ringraziando a nome dei pazienti senior l'aifa per aver accolto la nostra richiesta il 60 per cento degli psicologi ha dichiarato un aumento di nuovi pazienti durante la pandemia ansia depressione e disturbi del sonno i sintomi prevalenti secondo uno studio della cnr i riba di messina in collaborazione con le università della calabria e della magna grecia di catanzaro l'onda lunga della pandemia da covid ha prodotto notevole ricadute sulla salute mentale numerosi sono i sintomi comportamentali descritti sia in chi è stato contagiato dal virus sia in chi invece è stato vittima di fattori indiretti come lunghi periodi di quarantena perdita del sostegno sociale e sovraesposizione a fenomeni di infodemia la broncopneumopatia cronica ostruttiva è una malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da un'ostruzione irreversibile delle vie aeree identità variabile a seconda della gravità anche le terapie farmacologiche variano a seconda dello stadio della malattia sentiamo la terapia farmacologica deve essere calibrata sullo stadio e sulla gravità della patologia ma principalmente non tanto sulla gravità dell'ostruzione bronchiare ma quando sulla frequenza dei sintomi e delle reagutizzazioni le reagutizzazioni che sono un drastico peggioramento della funzione respiratoria della qualità di vita e dei sintomi dei pazienti quindi con un aumento della tosse dell'espettorato della dispenea le reagutizzazioni sono un momento diciamo importante nella storia clinica del paziente con broncopneumopatia cronica ostruttiva come un momento importante sono i sintomi di tutti i giorni quindi con la terapia farmacologica noi cerchiamo gli obiettivi fondamentali sono quelli di ridurre i sintomi fare fare quanto più possibile al paziente affetto da questa patologia una vita normale vicino al normale e ridurre questi episodi di grave reagutizzazione che peggiorano sicuramente in maniera drastica quello che è la prognosi stessa del paziente questi farmaci sono dei farmaci inalatori sono dei broncodilatatori degli steroidi inalatori quindi dei cortisonici per via inalatoria che associati fra loro in maniera diciamo diversa a secondo del grado di compromissione clinica e funzionale del paziente possono essere utili nel prevenire sicuramente le reagutizzazioni nel migliorare i sintomi e ci sono ora alcuni dati della letteratura che ci fanno vedere che l'uso costante di alcune associazioni di questi farmaci migliora anche la sopravvivenza dei pazienti quindi migliora l'aspettativa di vita di questi pazienti l'ipercolesterolemia è una condizione sempre più diffusa ma sottostimata e sottovalutata per conoscere l'ipercolesterolemia oggi c'è un sito che fornisce tutte le informazioni vediamo il servizio in italia da un'analisi condotta dall'osservatorio epidemiologico cardiovascolare sulla popolazione d'età compresa fra 35 e 74 anni è emerso che il valore medio del colesterolo totale è aumentato significativamente così come quello dell'ipercolesterolemia purtroppo ancora troppe persone ignorano trascurano le gravi conseguenze che livelli alti di colesterolo ldl possono avere sulla salute del cuore per saperne di più sul colesterolo oggi c'è un nuovo strumento interattivo un sito web abcolesterolo.it in cui i pazienti hanno a disposizione tutte le informazioni più aggiornate gli strumenti e i suggerimenti utili a tenere sotto controllo il loro colesterolo e abbassare così il rischio di eventi cardiovascolari come infarto e ictus Senior News termina qui prima di salutarvi vi ricordo pronto Senior Salute il servizio di Senior Italia Federanziani dedicato agli over 65 che hanno prenotato tramite il CUP una visita specialistica un esame diagnostico un ricovero e l'appuntamento non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del medico chiamando il numero 06 6227 4404 ogni singolo caso verrà preso in carico gratuitamente sul sito www.senioritalia.it invece potete rivedere questa e tutte le altre edizioni arrivederci